Gaetano Armao, vicepresidente della regione e assessore regionale all'economia, vede in manifestazioni come Expo Cook qualcosa di importante per lo sviluppo dell'offerta turistica della Sicilia. Coraggio, determinazione, innovazione, fantasia hanno fatto sì che si arrivasse a questo nuovo appuntamento nonostante il settore abbia subito il dramma dell'impatto del Covid-19 sulla nostra ristorazione, sui nostri alberghi e sul nostro turismo e nonostante le difficoltà di trovare spazi, ma questo luogo che è stato attrezzato per Expo Cook è la dimostrazione che quando l'impresa ha fantasia e capacità di innovare arriva ai propri risultati, è compito dell'istituzione starle accanto. Gaetano Armao, un osservatorio particolare e ci può dire quali sono le previsioni per l'economia della Sicilia in un futuro relativamente breve? Avevamo una previsione di crescita veramente straordinaria, l'invasione della Russia in danno dell'Ucraina ha determinato una riduzione dell'economia di tutto il mondo e purtroppo si riflette anche in Sicilia. Per fortuna la Pasqua è andata molto bene sul piano del turismo, ci sono buone previsioni anche per l'estate, non saranno le previsioni che avevamo immaginato, ma certamente avremo dei risultati molto positivi per quest'anno e anche per il prossimo anno. Occorre fare sistema, fare una impresa che abbia capacità di proiettarsi in Italia come un'impresa competitiva.